o ciao ragazzi benvenuti, oggi facciamo una cosa un po' diversa dal solito, come potete vedere il dipinto è suo, è quello vecchio, ma ce n'è una nuova elaborazione che presto avremo ma oggi il paziente sul tavolo è il tavolo, faremo una cosa un po' particolare, un po' fuori dagli schemi un bellissimo Spongebob, ho coniato questa nuova battuta, perché ho fatto un graffito con Spongebob è piaciuto molto e avevo questo vecchio mobiletto che lo volevo rinnovare, a troppo, ciao ciao ragazzi questa è la seconda parte dello Spongebob mobile, come potete vedere sono andato un po' avanti, ho fatto le guanciotte, sono andato a cena, poi mi sono dimenticato di accendere, ho fatto anche gli occhi faccio l'outline e andiamo sul finale, ciao spongebob squarepants spongebob squarepants spongebob squarepants spongebob squarepants ha 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 Grazie.